Proposta di legge bipartisan per introdurre il reato di istigazione all'anoressia, quella forma di promozione della malattia che avviene soprattutto attraverso siti internet noti come Proana, in voga anche fra i giovani italiani. Ci aveva già provato nel 2008 il ministro della salute Beatrice Lorenzin che aveva messo a punto una proposta di legge mirata a oscurare i circa 300.000 siti pro anoressia e bulimia e appunto a prevedere un'estensione del reato di istigazione al suicidio.